Buonasera e benvenuti alla seconda edizione di Geniuso. Iniziamo con la cronaca. Un imprenditore di 74 anni di Roseto degli Abruzzi è deceduto stamane in Via dei Mille a Teramo dopo essere volato dall'impalcatura. La vittima si chiamava Dino Ventura ed era titolare dell'omonima ditta di Roseto degli Abruzzi. L'uomo stava lavorando in un cantiere per la ristrutturazione di un palazzo quando è precipitato dall'impalcatura ad un'altezza di 15 metri. Soccorso dei presenti Ventura è spirato praticamente subito dopo per le gravi ferite. Le cause dell'incidente sono in corso di valutazione da parte dei carabinieri di Teramo e dell'Aslo che deve valutare se si siano state adottate tutte le misure di sicurezza previste nei cantieri. E 8 arresti e 13 persone italiane e albanesi denunciate. E' questo il bilancio dell'operazione messa a segno dalla polizia di Teramo che ha stroncato un'organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. Vediamo. Il collante dell'organizzazione era un imprenditore aquilano. A capo della banda c'erano tre stranieri, due fratelli albanesi e un romeno, mentre tra gli intercettati figurano anche nomi illustri della Teramo Bene, un politico e un avvocato che però non risultano indagati. La polizia di stato di Teramo ha arrestato 8 persone, una è però ancora irreperibile, delle quali 5 domiciliari e ne ha indagate altre 13 tra italiani e stranieri per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un'inchiesta condotta dalla mobile di Teramo che ha scoperchiato un pentolone destinato probabilmente a far discutere. All'imprenditore aquilano di 43 anni coinvolto nell'inchiesta, gli uomini della Guardia di Finanza inoltre hanno riscontato gravi irregolarità fiscale, per il quale la Procura dell'Aquila ha emesso un sequestro preventivo di 20 immobili, 10 autovettura di grosse cilindrata, tra le quali una Lamborghini Gaillardo e un'imbarcazione ad adiporto di particolare valore, per un totale di oltre un milione di euro. A capo dell'organizzazione c'erano tre stranieri, come detto, due fratelli albanesi, già finiti in carcere una volta nel maggio scorso con un ingente quantitativo di droga e un romeno, che erano secondo l'accusa i riferimenti dell'organizzazione, ai quali la squadra mobile contesta all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di grosse quantità di stupefacente. L'inchiesta è partita nel marzo del 2014, quando la squadra mobile di Teramo ha avviato una complessa attività investigativa, con il coordinamento della direzione distrettuale dell'Aquila, sull'attività di un sodalizio criminale di cittadini italiani albanesi, attivo tra Milano e Teramo, dedito al rifornimento e allo spaccio di cocaina e marijuana. Era stata creata così anche un'articolata rete di pusher locali, che spacciava sulla costa della provincia terramana nel Pescarese. Attorno all'attività, per così dire principale, c'erano anche altri episodi di estorsione, per aver costretto un assuntore che non era riuscito a pagare il debito per droga a cedere il proprio appartamento, o il sequesto di persona, per costringere sempre a pagare chi si rifiutava. È stato così che il coordinamento tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza e le ulteriori attività di intercettazione degli agenti della mobile di Teramo hanno consentito, nei giorni scorsi, di poter denunciare alla magistratura 21 persone, per associazione a delinquere finalizzato allo spaccio di stupefacenti. E restiava in Abruzzo perché è stato identificato e denunciato dal personale della Polizia di Pescara, l'uomo che il 17 giugno si è presentato nel bar Berardo con una pistola, poi risultato a giocattolo, inverno e minacciando i presenti per poi allontanarsi. Attraverso il sistema di videosorveglianza la Polizia ha isolato le immagini in cui si vedeva il marocchino, che ha 39 anni ed è in Italia senza fissa dimora e ha notato che era in compagnia di una donna che in genere circola negli ambienti della stazione. È stata ascoltata e ha consentito di intracciare la zona dove è accampato il 39enne a Montesilvano. Una volta identificato è stato riconosciuto da chi lo aveva visto in azione a Berardo e gli è stata trovata la pistola che è finta. È stato denunciato per minacce e molestie. I agenti della Guardia di Finanza nel comando provinciale di Teramo hanno acquisito questa mattina nella sede dell'assessorato della cultura del comune di Teramo la documentazione relativa all'organizzazione del capodanno teramano. Le fiamme gialle da quanto si è preso indagano su autorizzazioni, gare e costi di una manifestazione che è stata accompagnata da tantissime polemiche, a cominciare dal fatto che nonostante il gelo polare e la neve non sia stata rinviata dall'amministrazione comunale. E la polizia di Ascoli ha identificato e denunciato l'uomo che nella notte del 6 giugno scorso aveva accoltelato uno degli avventori in un bar del popoloso quartiere di Monticelli, il capologo Piceno. Vediamo. La polizia di Stato ha denunciato alla procura della Repubblica di Ascoli, un uomo di 47 anni, per rispondere al reato di lesioni aggravate. I fatti si riferiscono alla notte del 6 giugno quando nella notte all'interno del little bar del quartiere di Monticelli si era scalitenato un diverbio tra due avventori. Dopo iniziale ha acceso al terco al verbale e i due si erano quindi giunti alle mani. Non pago di quanto già fatto, l'uomo presumibilmente in preda agli effetti dell'alcol brandiva un coltello a serramanico e colpiva con diversi fendenti il contendente, causandogli delle ferite al volta al torace. Lo stesso in attimo di lucidità resosi conto di quanto fatto e dell'imminente arrivo della macchina della polizia di Stato, chiamata da altri utenti, si dava ad una precipitosa fuga tra i palazzi adiacenti nella convinzione di riuscire a non farsi identificare. L'imminato intervento del personale della polizia consentiva di prestare i primi soccorsi al malcapitato e limitare i danni dovuti all'accoltellamento. Le indagini condotte dalla squadra mobile attraverso un minuzioso lavoro di raccolta delle prove, anche con l'ausilio del personale della polizia scientifica, hanno consentito di acclarare la dinamica dei fatti e di identificare l'aggressore. Sono ancora al vaglio degli investigatori i reali motivi dell'aggressione che avrebbero dei contorni poco chiari rispetto a quanto dichiarato dai protagonisti. Anche per questo fatto, al titolare del bar, era stata applicata l'acquestore la sospensione della licenza di esercizio. Contestualmente le indagini di polizia giudiziaria, al fine di venire in conto alle esigenze di sicurezza della popolazione del quartiere Monticelli, sono stati intensificati in funzione preventiva e controlli su quell'area, sia da parte della questura che dalle polizia stradale. Restiamo nelle Marche, ma ci sasseremo a Porto San Giorgio, perché i carabinieri, dopo un cambolesco in seguimento, hanno fermato un 29enne di origini polacche. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di arnesi da scasso e ora dovrà rispondere dei reati di guida senza patente, resistenza a pubblico ufficiale, in ottemperanza invito di fermarsi e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Il giovane in passato è stato già oggetto, a causa della sua pericolosità sociale, di misure di prevenzione dell'avviso orale. E macchinari a fuoco e incendio nei capannoni della ditta maceratesi. L'incendio è scattato attorno alle 6.30 di questa mattina in contrada Morino Gatti, lungo la strada Regina a Porto Potenza Picena. Per caso in corso di accertamento hanno preso fuoco alcuni macchinari per il catrame sulle strade. Sul posto due mezzi di vigile e fuoco di Civitanova, due da Macerata e un autobotte da Ancona. Sul fatto indagano i carabinieri. E i disabili rischiano di pagare dazio alle decisioni della Regione sull'introduzione dei ticket per le prestazioni sociosanitarie in precedenza erogate dallo stesso ente regionale. La critica arriva dal Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo e in maniera particolare dal consigliere Gianluca Ranieri. Sentiamolo. Prima la riorganizzazione delle strutture, poi l'approvazione del regolamento sulla con partecipazione ai ticket sociosanitari e la richiesta del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle rilanciata questa mattina a Pescara. Gli esponenti della minoranza tornano a criticare il regolamento predisposto dalla Giunta, attualmente in discussione in Commissione Sanità da settimane. Per il gruppo, piuttosto che affannarsi a introdurre a carico dei cittadini disabili e non autosufficienti un contributo in denaro per l'erogazione di servizi che prima erano a totale carico della Regione, andrebbero invece analizzati i bisogni reali sul territorio, così da procedere all'adeguamento della rete e delle strutture. Solo a quel punto si dovrebbe passare all'introduzione del regolamento che sia efficiente e in grado di garantire autonomia al sistema, come puntualizza il consigliere regionale Gianluca Ranieri. Ma non è tanto il balsello la nostra preoccupazione, quanto piuttosto il fatto che la rete di assistenza sociosanitaria non è completata né adeguata a venire incontro all'esigenza dell'utenza. È a nostro parere che se si fosse operato bene si sarebbe prima fatto una ricognizione di quella che è l'esigenza territoriale. Dopodiché, verificato che le strutture fossero adeguate, si sarebbe proceduto a fare questo regolamento, cosa che non è stata fatta. Le strutture non sono adeguate, non si sa quali servizi debbono essere forniti e a chi, quindi questo è il nostro principale problema. Posto che poi, poiché si è operato male, si va a gravare ulteriormente quelle che sono nelle categorie fortemente disagiate, cioè i disabili e i non autosufficienti per quanto riguarda la lunga assistenza. La regione del retromarce, guidata da D'Alfonso, continua a mettere le pezze ai suoi sciagurati atti di vera e propria macelleria sociale. Ieri Forza Italia e Centro-Restra hanno ottenuto un importante successo in quinta commissione, con la maggioranza che si è vista costretta ad accantonare il regolamento. È quanto dichiarano i consiglieri regionali di Forza Italia a conclusione di una battaglia che gli ha visti i protagonisti in questi mesi. Dal primo momento, spiegano i rappresentanti dell'opposizione, ci siamo sempre opposti con decisione a questo scelerato provvedimento firmato da D'Alfonso, Paolucci e compagni che prevede l'introduzione dei ticket e oggi finalmente possiamo dire di aver bloccato una vera e propria iattura che colpisce i più deboli. E la giunta regionale, su proposta del presidente Luciano D'Alfonso, ha conferito l'incarico difensivo all'avvocatura regionale per la proposizione del ricorso al Tarlazio per l'annullamento, previa sospensione del decreto di compatibilità ambientale. Si tratta del decreto con cui il Ministero dell'Ambiente ha stabilito la compatibilità ambientale con prescrizioni del progetto, variazione del programma dei lavori nell'ambito della concessione di coltivazione, attività di perforazione di nuovi pozzi di coltivazione e adeguamento degli impianti esistenti per l'ottimizzazione del recupero di idrocarburi dal giacimento offshore Rospo Mare, presentato dalla società Edison S.p.a. e localizzato nel mare Adriatico a largo della costa abruzzese Morisana. E nel corso dell'ultimo consiglio comunale di Sant'Omero è stato approvato all'unanimità il regolamento di polizia rurale. L'approvazione di questo regolamento è un risultato importante per il territorio in quanto per la prima volta va a dotare il comune di una serie di regole tecniche di comportamento su una materia così importante e delicata come quella della manutenzione del territorio, come sottolinea il sindaco di Sant'Omero Andrea Luzzi. Questo strumento, afferma l'assessore Carla Gatti, che ha seguito con attenzione in questi mesi il lavoro di stesura del regolamento, tra vari aspetti si occupa della tutela dell'ambiente attraverso la disciplina del pascolo, della caccia e della pesca, con un importante riferimento al divieto di abbandonare i rifiuti e della pulizia dei fossi, dei canali e di tutto ciò che riguarda la manutenzione del territorio. E torniamo nelle marche, perché acqua vietata a Fabriano dopo la scoperta di tracce di un batterio. La notizia è stata data stamattina al sindaco Giancarlo Sagramola. Mezzini con altoparlanti hanno informato la popolazione e per l'approvvigionamento sono già presenti in alcuni punti di Fabriano degli autobotti. Nel corso di due campionamenti dell'acquedotto effettuati dalla Multiservizi sono state infatti trovate tracce di escherichi a coli. Da qui la decisione di dichiarare l'acqua non potabile ma utilizzabile per usi domestici o commerciali solo dopo l'abolitura. Il divieto è in vigore già da oggi. E Giorgio D'Ignazio a sostegno della maggioranza in Regione. La valutazione emerge dall'espressione di voto palesata dal capogruppo del nuovo centrodestra su una mozione presentata da Abruzzo Civico sull'indicazione dei poli di attrazione previsti dal Dipartimento dello Sviluppo Economico che escludevano la provincia terramana. Lo stesso consigliere regionale spiega le motivazioni e lancia l'invito a Gianni Chiodi a prendere in mano le redini dell'opposizione centrodestra. Sentiamolo. Il consigliere D'Ignazio ha votato con la maggioranza di Luciano D'Alfonso sui punti di interesse e che escludevano un po' il territorio terramano. Sì, completamente il territorio terramano. Questo non va bene, ma al di là di tutto era una mozione di carattere politico e siccome io ho votato una mozione della maggioranza, anzi presentata la scelta civica, quindi da un gruppo di maggioranza che l'ha utilizzata come testa di ponte per danneggiare o per creare un attimino di tensione, in Regione io ho votato in maniera contraria. Prima perché non salvaguardava il territorio terramano, assolutamente non era compreso il territorio terramano e poi perché secondo me quando si fa politica, soprattutto a un certo livello, un consigliere regionale ha una responsabilità importante che è quella comunque di pensare al territorio dell'Abruzzo e non di passare le proprie ore a discutere sui problemi di maggioranza, poltrone o altre cose. Quindi è importante che si ritorni a fare politica per il bene della gente. Quello che ho sempre fatto io, oddio, ho cercato di farlo chiaramente, comunque ritenendo di farlo, non facendo mai una opposizione preconcetta, un no sempre o un sì sempre, essendo cercato di farmi convincere magari lì dove non avevo delle convinzioni esatte o comunque di discutere all'interno del gruppo. Così si faceva quando Gianni Chiodi era coordinatore delle forze d'opposizione. Vi ricordate quando Gianni Chiodi perse le elezioni? coordinò le forze di opposizione e votammo a volte con la maggioranza e a volte non votammo con la maggioranza ma cercammo di fare il bene della città di Teramo tant'è che Gianni Chiodi successivamente vinse le elezioni e fece il sindaco di Teramo per poi fare il Presidente e il Governatore della Regione Abruzzo. Speriamo che si torni a questa cosa, cioè a chi merita la leadership di questo gruppo e sicuramente non può che essere il nostro Presidente Merito Gianni Chiodi, riprenda questa leadership, la prenda con forza, guidi il centrodestra a fare opposizione unita anche se con una discussione interna e poi sperando quindi di portare fra quattro anni alla riconquista della Regione Abruzzo. Dopo Pescara, la prima città in Abruzzo ad aver dato la possibilità lo scorso aprile di sposarsi in spiaggia, anche a Giulianova i matrimoni con rito civile potranno celebrarsi in luoghi aperti come parchi e spiagge ma anche in strutture ricettive edifici aperti al pubblico che siano di particolare pregio storico, architettonico o artistico. La decisione è stata assunta dalla Giunta con apposita deliberazione. Sono sempre più le coppie che sognano le nozze sulla spiaggia o comunque luoghi che non siano quelli canonici come la Sala Consigliaria o il Sotto Belvedere. Per cui dichiara il sindaco Francesco Mastromauro sull'esempio di altre città come Rimini, Fano e Pescara abbiamo deciso di garantire questa possibilità che immaginiamo verrà apprezzata da quelle coppie desiderose di un'emozione unica. Il Comune di Campli sarà presente il prossimo 2 luglio ad Expo 2015 ospite del padiglione di Coldiretti. La partecipazione di Campli all'esposizione universale di Milano è dovuta alle preferenze espresse dagli utenti che attraverso il progetto italive.it hanno selezionato il Comune come una delle best destinations in Italia. Attraverso la partecipazione del Comune di Campli ad Expo il prossimo 2 luglio sarà possibile far conoscere ad una vastissima platea di italiani stranieri i prodotti del territorio e le iniziative locali messe in atto dall'amministrazione. Restiamo in Abruzzo perché il governo regionale abruzzese ha destinato 6 milioni di euro del fondo PAR FSC 2007-2013 alla realizzazione di 5 piste ciclabili che avranno l'obiettivo di elevare il grado di attrattività turistica delle singole zone interessate. La dotazione finanziaria è di 1.350.000 euro per i 4 progetti che saranno realizzati dal Comune di Pescara, dall'Aquila, dalla provincia di Pescara e dall'Unione dei Comuni della Val Vibrata le di 600.000 euro per il progetto Il Comune di Lanciano. L'ha reso noto l'assessore regionale al cicloturismo Dino Pepe che esprimendo la propria soddisfazione ha sottolineato che stiamo investendo risorse importanti sul cicloturismo. Le piste ciclabili interne competeranno a rete percorribile dalle due ruote integrando la pista di 131 km del litorale abruzzese. E il Lions Club Val Vibrata con il patrocinio del Comune di Tortoreto e l'Asle di Terra domenica ha organizzato la settima edizione della giornata della prevenzione del melanoma, iniziativa programmata nei locali del distretto sanitario di Via Isonzo. Un'equipe di dermatologi che hanno messo a disposizione la loro professionalità al presidente del Lions Club Val Vibrata Lanfranco Cardinale e al socio responsabile del service Carmine Guercioni, effettueranno visite gratuite mirate alla valutazione dei nei e delle macchie della pelle con lo scopo di individuare percocemente quelle lesioni dalle quali potrebbero originare melanomi. Qualità delle acque a portata di cric. Vuoi sapere se il mare è balneabile? Da oggi saperlo è estremamente semplice grazie all'elaborazione di un'app da parte dell'Arta Abruzzo. Il progetto sperimentale riguarda per il momento quattro località in Abruzzo, ma è destinato all'arragarsi al resto delle cittadinanze balneari. Conoscere la qualità del mare in corrispondenza del proprio stabilimento balneare, anche in tempo reale navigando sul telefonino. È finalmente possibile grazie all'innovativo servizio online che l'Arta Abruzzo ha attivato per facilitare e velocizzare la fruizione delle informazioni ambientali riguardanti lo stato di qualità delle acque di balneazioni regionali. A presentarlo questa mattina nella sede dell'Arta di Viale Marconi a Pescara è stato il direttore generale Mario Amicone affiancato all'assessore regionale della sanità Silvio Paolucci e da oltre un anno ha spiegato il direttore Amicone che coltivo questa idea e credo che l'Arta sia la prima agenzia ambientale in Italia a realizzarla. Il nostro intento è fornire al pubblico informazioni chiare e utili sulle condizioni di balneabilità delle nostre località turistiche consentendo addirittura di verificare lo stato del mare in corrispondenza dei propri stabilimenti balneari. L'applicazione web accessibile dalla home page del sito istituzionale è stata interamente sviluppata dagli informatici dell'ente a costo zero e prevede due versioni, una per computer ed una più leggera per smartphone. La novità principale sta nella possibilità per l'utente di visualizzare gli esiti delle analisi dell'agenzia scegliendo il punto di prelievo e gli stabilimenti balneari presenti nel tratto di costa monitorato. Le mappe e le immagini satellitari di Google Maps localizzano geograficamente i campionamenti effettuati. Il progetto in questa fase sperimentale interessa i comuni di Pescara, Montesilvano, Giulianova e Ortona ma l'Arta conta di allargarlo ad altri centri costieri di rilevanza turistica. Del resto, lo stato di saluto del mare abruzzese è una delle richieste più frequenti che in estate arrivano ai centralini dell'agenzia. Il governo regionale, ha commentato l'assessore Paolucci, è grato all'Arta perché con questa iniziativa ci aiuta a raggiungere due dei nostri obiettivi prioritari. Garantire il diritto alla salute dei cittadini e assicurare ai turisti informazioni sufficienti sul nostro mare e sulla costa. Sono convinto che i comuni abruzzesi si metteranno in competizione positiva per aderire ad un'idea così innovativa e virtuosa. Venerdì 10 luglio l'Università degli Studi di Terrambo conferirà la laurea Honoris Causa in Scienze e Tecnologie Alimentari a Filippo Antonio De Cecco per aver contribuito allo sviluppo economico, sociale e culturale promuovendo l'imprenditoria italiana nel mondo e mantenendo un forte legame con la terra di origine. Filippo Antonio De Cecco è nato a San Valentino in Abruzzo nel 1944 e presidente e amministratore delegato della Fratelli De Cecco di Filippo, Fara, Martino, San Martino S.P.A., società di famiglia e storica azienda della pasta, capofile di tutte le società del gruppo De Cecco che nel 2011 diventa il terzo produttore di pasta nel mondo. Torniamo nelle marche perché la Camera di Commercio di Ascoli presieduta da Gino Sabatini ha indetto un concorso rivolto a tutti gli artisti del territorio nell'ambito del Festival dell'Appennino e Stemporane Art del 360 gradi. Questo nome del concorso si svolgerà il prossimo 4 luglio dalle 9 alle 17 presso la splendida cornice naturalistica di Forcella, località poco popolata durante l'anno ma capace di attrarre molti turisti e visitatori proprio in occasione del Festival. Gli artisti partecipanti saranno chiamati a realizzare un'opera scegliendo una delle postazioni dislocate per il paese che sia evocativa del luogo e capace di valorizzare l'arredo urbano integrandosi con esso. Bene, adesso il meteo e poi con la pagina sportiva. Buonasera e bentornati a questo nuovo appuntamento con le previsioni del tempo a cura dell'istituto aeronautico Antonio Locatelli. Diamo ora le previsioni per contorvolata la giornata di sabato sulla nostra penisola. Come possiamo vedere i cieli dell'Italia saranno caratterizzati nella giornata all'insegna del bel tempo. fatta eccezione per qualche lieve rovescio a carattere temporalesco che caratterizzerà il settore alpino e la Liguria. Scendiamo ora in dettaglio e vediamo le previsioni su Marche Abruzzo che saranno conformi alla macro-regione del centro Italia. Come possiamo vedere avremo anche qui una giornata all'insegna del bel tempo con qualche lieve a nuvolamento sparso transitorio. Le temperature oscilleranno tra valori di 26 e 29 gradi. Da Metelo Catale è tutto al prossimo appuntamento. Il procuratore federale della Federcalcio Stefano Palazzo ha convocato il presidente del Catanzaro Giuseppe Cosentino per il prossimo 2 luglio a Roma nell'inchiesta di Orti Soccer che rischia di stravolgere il campionato ultimo di Lega Pro. La convocazione del presidente del Catanzaro è relativa all'inchiesta di Orti Soccer avviata proprio dalla procura del capologo calabrese. Questa accelerazione operativa lascerebbe supporre che quanto prima si dovrebbe far luce anche sulla gara tra Savona e Teramo per la quale il presidente Luciano Campitelli resta assolutamente tranquillo. C'è chi pensa alla prossima edizione della Coppa Italia Team Cup. Alla manifestazione parteciperanno anche le seconde classificate dello scorso campionato di Serie D. Esattamente si parla di Sestri, Levante, Lecco, Alto Vicentino, Porto Tolle, Rovigo, Poggi Bonzi, Fano, Viterbese, Taranto e Rende. La Lega Nazionale di Lettanti attraverso il Dipartimento Interregionale ha già chiesto a tali squadre la loro disponibilità. In caso di rinuncia l'offerta sarà valida per la terza in classifica e così via. E sarà il tecnico del Teramo, Vincenzo Vivarini ad essere premiato come sportivo abruzzese dell'anno nell'undicesima edizione del premio Rochi Marciano che avrà luogo a Ripatiatina dal 30 giugno al 2 luglio prossimi. Questa mattina a Pescara in Regione la presentazione della manifestazione da parte dell'assessore allo sport Silvio Paolucci del sindaco di Ripatiatina Ignazio Rucci e dell'assessore comunale Ripese Gianluca Palla Di Netti. In realtà l'edizione di quest'anno sarà aperta dopo domani, domenica 28, da una gara ciclistica, il terzo trofeo Rochi Marciano Bike che animerà il centro cittadino a partire dalle ore 9. In serata alle 19.30 la sala espositiva della Torre di Porta Cabella ospiterà l'inaugurazione della terza edizione della mostra d'arte contemporanea Ripatiatina Terra di Campioni incontro tra arte e box. Il Teramo ha rinnovato il contratto con il centrocampista Stefano Amaddio per le prossime due stagioni. Il Amaddio nello scorso campionato è sceso in campo in 34 occasioni e siglando una rete. Sono molto soddisfatto, ha affermato Amaddio. Era quello che desideravo perché provengo da un'annata fantastica con un gruppo meraviglioso. C'era la volontà comune tra le parti e non è stato difficile raggiungere l'accordo con il CREB. Ora non vedo l'ora di ricominciare perché ho il desiderio di misurarmi con questa nuova realtà. Ci siamo meritati sul campo questa promozione e conto sul sostegno del nostro splendido pubblico. E dopo aver acquisito le quote del Giulianova Calcio, l'avvocato Berardo D'Antonio ha dichiarato che mancano 31 mila euro per la fiduzione e 19 mila euro per l'iscrizione. Una somma complessiva di quindi 50 mila euro che non c'è e che è necessaria per iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie D. I tifosi si chiedono quale sia stata la ragione che lo abbia spinto ad acquisire le quote nonostante D'Antonio fece presente da subito di voler coinvolgere il sindaco per interessare alla causa altri imprenditori. Ad oggi le risposte ricevute sono praticamente nulle ed il Giulianova corre il rischio di non disputare la prossima Serie D. E per il secondo anno consecutivo il ritiro estivo del San Nicolo Calcio verrà svolto a Castel del Monte, una località in provincia dell'Aquila. Intanto la società comunica di aver interrotto il rapporto con il responsabile dell'area tecnica Piero Dorazio e nel contempo la stessa comunica l'ingresso di Filippo Di Antonio, un imprenditore di 45 anni che ricoprerà il ruolo di presidente del settore giovanile. A lui spetterà il compito di migliorare il vivaglio biancazzurro attraverso una stretta collaborazione con il settore giovanile della polisportiva Virtus Teramo. Il presidente Salvatore Giovanni e la società tutta augurano al nuovo dirigente le migliori fortune. E punta dritto invece alla prossima Serie D il Monticelli sconfitto nella finalissima playoff dal Serpentara. La società scolana infatti è in procinto di presentare la domanda di ripescaggio. Entro il 6 luglio infatti saranno formalizzate due iscrizioni una alla Serie D e l'altra al torneo di eccellenza. I blanco-blu come ricorda il tecnico Stallone sono tra le dieci squadre in procinto di poter fruire di un ripescaggio. Sentiamolo. Insomma l'idea di un ripescaggio c'è insomma come ci si sta muovendo? Allora diciamo che l'altore insegna che chi è arrivato come noi negli ultimi dieci anni nella nostra posizione è stato sempre ripescato. Nelle Marche gli esempi più eclatanti sono quelli della Cittanovese e della Visto Pesaro quindi vuol dire sono realtà che hanno già goduto e fruito di questa situazione. Esiste anche qui in un primo momento uno pensava che fosse automatico chi arriva alla finalissima quindi il merito sportivo invece esiste una specie di graduatoria che è fatta di più punteggi in ogni caso comunque la prassi è questa entro il 6 luglio noi come Monticelli ci iscriveremo a campionato di serie D e a campionato di eccellenza e produrremo una serie di documenti che fanno punteggio cioè un punteggio su base nazionale quindi non è base su base territoriale ovvero qualcuno a volte dice se la Cittanovese va via scompare automaticamente entrate voi no non è così la cosa scompaiono 8 società in Italia poi voglio dire chiaramente il territorio viene diciamo riorganizzato in base alle distanze però non è automatico che entra la realtà vicino all'eventuale società che non dovesse partecipare noi oggi come oggi su un punteggio chiamiamolo ipotetico siamo tra le prime 10 a essere ripescate l'unica cosa negativa che abbiamo come Monticelli che non ci permette di avere diciamo quella tranquillità di essere ripescati è la storia sportiva perché purtroppo nei vari parametri che sono scelti dove conta la città l'oftadio il numero di abitanti e tante altre qualità la finale raggiunta la coppa discipline il settore giovanile c'è anche quella dei campionati trafcorsi Gianluca Fenucci è il nuovo allenatore del Monte Giorgio squadra che milita nel campionato di eccellenza marchigiana l'ex tecnico della Biagio Nazaro 54enne torna a Monte Giorgio dove ha già vestito i panni di portiere allenatore nella stagione 94-95 Fenucci prende il posto di Roberto Vagnoni caduto a declinare l'offerta per motivi di lavoro e passiamo al basket perché Tony Trullo sarà l'allenatore del Roseto Sharks anche per la stagione sportiva 2015-2016 in accordo con l'allenatore Rosetano è arrivato grazie agli ottimi risultati conseguiti la stagione scorsa in fondo si tratta della sua scelta più semplice e logica per la dirigenza adreatica che continua a versare comunque in una situazione economica non facile e per la quale sta tentando ogni azione tesa a coinvolgere il territorio e nuovi imprenditori Tony Trullo Rosetano da noi avvicinato telefonicamente ha ribadito la propria soddisfazione per questo ennesimo attestato di stima che arriva dalla sua città e l'impianto fermano di Monte Rosato sarà teatro domani e domenica della quarta edizione del campionato italiani motocross MX1 e MX2 cresce l'attesa per un appuntamento sportivo cui prenderanno parte 200 partecipanti e che vedrà arrivare a fermo il meglio del motocross nazionale con numerosi piroti accompagnatori famiglie e sportivi il motoclub Monte Rosato sta da giorni lavorando alla cremente per consentire che la manifestazione si possa svolgere nelle migliori condizioni con interventi di sistemazione del tracciato soprattutto su rampe e salti per rendere la gara ancora più spettacolare area paddock e strutture tirate a lucido con questa ultima notizia termina qui la seconda edizione di Genius vi lascio adesso al Genius Piceno intanto vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata arrivederci grazie a tutti